Cooperativa Agricola Volpago, da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grava e Trebaseleghe. Bentrovati al meteo. Ultimo weekend di maggio caratterizzato da una situazione tranquilla sul nostro territorio, salvo per i consueti disturbi pomeridiani. Ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione. Sul Veneto inizialmente sarà sereno o poco nuvoloso, salvo per possibili annuvolamenti sulle zone montane. Nel corso delle ore pomeridiane, graduale aumento della nuvolosità. Avremo occasionali acquazioni dapprima sui rilievi, improbabile estensione anche alle aree pedemontane e settentrionali della pianura, a partire dal tardo pomeriggio sera. Temperature comunque gradevoli, minime tra 7 e 14 gradi, massime invece tra i 21 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, ma col passare delle ore avremo rovesci sulle Alpi, localmente fin verso le aree pianeggianti. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento al mattino, a seguire occasionali temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 7 e 9 gradi, massime infine sui 24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grava e Tre Baseleghe.